Presidente, io praticamente sono sconcertato perché sento parlare tutti i consiglieri comunali e le cose vanno bene, questa cosa, quella cosa, ma io mi ritrovo cinque o sei interrogazioni a cui l'amministrazione ancora oggi non ha dato nessuna risposta. Io dico, quando faccio un'interrogazione io o il collega Cancemi, noi facciamo le interrogazioni, ma perché ne facciamo queste interrogazioni? Ci prendiamo in giro? O prendiamo in giro le persone che ci chiedono di fare questi tipi di interventi? Ma l'amministrazione vuole rispondere a qualche cosa? Ma io non lo so. Presidente, qua mi sembra che è un paradosso, la gente cade e si fa male, da questi banchi diciamo che ci sono delle problematiche, che ci sono le buche, l'indomani che le persone si fanno male, si va a sistemare la buca e poi dobbiamo andare a spendere anche i soldi per pagare i danni materiali alle persone. Ma che stiamo scherzando? E qua a Mazzara va tutto bene, l'amministrazione tutto bene, ci dobbiamo vergognare. C'è una città lo sfacelo, la via Bessarione è un colabrodo. Ora che viene l'estate come dobbiamo fare? Come li accogliamo i turisti? E diciamo che abbiamo la città a spondo turistico che dobbiamo vivere di turismo, questo è il turismo che dobbiamo fare, che la città è vivibile, Presidente, io mi vergogno di essere mazzarese. Grazie. A me dispiace che il consigliere Burzotta abbia utilizzato dei termini così molto irruenti, io capisco la sua rabbia, però io ritengo che qui, quando siamo in aula, almeno io cerco di dare tutte le possibili risposte che si possono dare. A volte uno non può dare una risposta perché non c'è una risposta, bisogna attendere, i tempi sono questi. Per quanto riguarda poi la manutenzione e l'ordinamento delle strade, devo dire che oltre a trovare, aver trovato i fondi stamattina che consentiranno di ripristinare il litorale della tonnarella e quindi portarlo a norma, abbiamo anche trovato delle risorse economiche che ammontano a più di 100 mila Euro che verranno utilizzate per la manutenzione delle strade. Ma manutenzione delle strade non significa coprire la buca, cioè fare dei lavori di manutenzione a regola d'arte per evitare che giustamente molti cittadini purtroppo a causa delle buche presenti nella città subiscono degli incidenti. Quindi ci siamo trovati anche in tal senso, quindi ritengo che fra una decina di giorni sarà fatto un bando, un avviso pubblico.